Qui in Italia ci piace parlare troppo e fare poco. La giornata della sera, la gazzetta dello sport, controllato da uno che è patrono della Torino, fare questi stupidi articoli che fanno, si devono vergognare. Perché io non è che ho giornali qui in Italia, ma non è giusto che uno che è patrono del calcio fai la critica a un'altra squadra che deve incontrare. So, so, vediamo se si sveglia qualcuno perché, guarda, quello che ho detto io sul calcio italiano, quello che ho detto pochi anni fa, tutto è successo sul fatto che è un calcio malato, che ci sono squadre che vanno in campo dove non sono in regola con i finanziamenti e si è visto qualche successo con il fatto della Juventus.